Mi chiamo Laura, ho 42 anni e non ho più tempo per niente. Eh ma dimmi, signora! Dicono che in realtà ognuno si sceglie la vita che vuole vivere. Scusami, e tu non penserei di uscire combinata in quel modo, vero? Ma tutte le mie amiche si vestono così. E io non mi lamento della mia, eh. Mi farei tutto esattamente come è stato. Scusate. Oddio, beh, magari tutto tutto o no. Scusate.